Aie, domiciliari anche Carla Sara, responsabile del personale di Seregno Orizzonti, accusato di truffa aggravata domani, riesame su Blasoni. Tentato furto nella notte alla stazione di servizio Coet di Martignacco, raffica di colpi anche a Plaino. A rischio Crolli e Conamianto, l'officina del Battiferro di via San Bernardo sarà sistemata dal comune, 56 mila euro poi rimborsati dalla proprietà. Allerta meteo dalle 6 di domani, rischio acqua alta sulla costa, bora forte in serata, pioggia intensa su tutta la regione, rischio valanghe. Valida l'ipotesi Gotti per il nuovo tecnico, l'Udinese sta riflettendo e valutando anche i positivi risultati conquistati con l'allenatore Veneto che si mette a disposizione. Buonasera a tutti i telespettatori di Udinese TV e buonasera anche a David Zanirato in conduzione questa sera in questo TG con me. Buonasera David. Buonasera a te Angela e a tutti i nostri telespettatori. E allora iniziamo subito con la cronaca giudiziaria, con gli sviluppi dell'inchiesta per truffa aggravata che vede coinvolti i vertici di Sereni Orizzonti. E' stato scarcerato oggi e posto ai domiciliari il responsabile dell'ufficio personale Federico Carlassara. Domani invece ci sarà l'attesa udienza in cui il Tribunale del Riesame si esprimerà sulle misure cautelari nei confronti del Presidente della società Massimo Blasoni. Allora facciamo subito il punto su questa inchiesta nel primo servizio di Francesca Santoro. Nell'attesa dell'udienza per il Riesame per Massimo Blasoni, il patron di Sereni Orizzonti, detenuto nel carcere di Via Spalato per truffa aggravata ai danni del Sistema Sanitario Nazionale, è stato scarcerato nella tarda mattinata di oggi Federico Carlassara. Il responsabile dell'ufficio personale del Colosso delle Case di Riposo era stato arrestato il 24 ottobre scorso nell'ambito dell'inchiesta che ha investito appunto anche il fondatore e presidente della società. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Udine Maria Rosa Persico, accogliendo l'istanza di modifica della misura cautelare avanzata dai suoi legali al termine dell'interrogatorio. Così, nei confronti di Carlassara, che si trovava in custodia cautelare nel carcere di Tolmezzo, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Nei giorni scorsi era già stato scarcerato Marco Baldassi, componente del CDA e braccio destro di Blasoni. Dopo che la Procura di Udine ha disposto la revoca del sequestro dei beni e dei conti correnti bancari della società, grazie all'intesa raggiunta con l'Avvocato Luca Ponti, che garantirà la regolare attività del gruppo, l'attenzione si sposta appunto sull'udienza di domani alle 9, in cui il Tribunale del Riesame si esprimerà sulle misure cautelari di Blasoni. Come rimarca illegale del presidente di Serenio Orizzonti, continua nel frattempo il lavoro per l'impostazione della linea difensiva. E su questo argomento è intervenuto oggi anche l'esponente del Partito Democratico, Diego Moretti, che ha chiamato in causa la Regione. Sì Angela, con una nota, l'esponente del PD ha chiesto appunto alla Regione che sull'inchiesta di Serenio Orizzonti, che ha aperto una serie di interrogativi e preoccupazioni per migliaia di persone, anche in Frui Venezia Giulia, che affidano i propri chiaro a questa struttura per i loro e per i lavoratori, per le cause di riposo già esistenti, così come per quelle in fase di costruzione. È necessario, dice Moretti, capire quali sono le ripercussioni, così come è importante, che vengano rese note a tutte le iniziative della Regione nei confronti della vicenda. E noi andiamo avanti con la cronaca adesso. Tentato furto nella notte alla stazione di servizio Kuwait di Martignacco in via Spilimbergo. I malviventi hanno fatto saltare la colonnina delle self-service, ma stando ai primi accertamenti non sarebbero riusciti a rubare alcunché. L'allarme è scattato poco prima delle due. Il segnale di allerta è arrivato alla centrale dell'Istituto di Vigilanza Corpo Vigili Notturni. Danni ingenti alla struttura, ancora in corso di quantificazione. Questa mattina Luciano Edelfonso ha sentito la testimonianza del gestore della stazione di servizio. Sentiamo. Esplosa nella notte la colonnina del Bancomat, che cosa siete riusciti a ricostruire e quali danni? Verso le due mi hanno chiamato e mi hanno detto che era saltato in aria mezzo distributore. Mi sono trovato la scena di fronte, è partito uno dei due self-service. Teoricamente non sono riusciti a portare via l'incasso perché si intravede qualche cosa dentro, anche se si intravedono banconote bruciate, danni alla pensilina e danneggiati i miei furgoni a noleggio, parcheggiati. Come è accaduto il danno al furgone? Con l'esplosione sono partiti i pezzi e si sono scaraventati adossi miei furgoni. Ha già un'idea dell'importo dei danni? Beh, per quanto riguarda il distributore non lo so assolutamente, provvederà la compagnia. Per i miei furgoni siamo sicuramente su un paio di migliaia di euro di danni, sicuro. E' raffica di furti nelle case nella zona di Plaino, frazione di Pagnacco. Sui colpi stanno indagando i carabinieri impegnati anche con il caso della cassaforte rubata da un'abitazione e ritrovata vuota sulla Ippovia. Sentiamo. Furti a raffica nelle abitazioni della zona di Plaino, frazione di Pagnacco. L'ultimo colpo in ordine di tempo è avvenuto la scorsa notte in una casa di via Torreano. Come segnalato dalla stessa malcapitata proprietaria, sulla pagina Facebook 6 di Plaino 6, in un post con tanto di immagini dell'abitazione a subquadro. Altri colpi sono stati segnalati sempre nella zona anche venerdì notte, sia in via Torreano che in via Zampis. Sui furti indagano i carabinieri. Una cassaforte è stata invece trovata abbandonata lungo l'Ippovia a Tavagnacco. Si tratta del bottino di un colpo messo a segno sabato scorso in una casa della zona. Quando i ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per introdursi nell'abitazione. Una volta entrati nella casa, i malviventi sono riusciti ad asportare il forziere, al cui interno erano custoditi monili in oro, gioielli con tanti e altri preziosi, per un valore complessivo di circa 20.000 euro. Più tardi, a rientro in casa, la famiglia ha fatto la spiacevole scoperta e ha denunciato l'effrazione ai carabinieri della stazione di Feletto Umberto. Sono così scattate le indagini e dopo appena due ore la cassaforte è stata trovata dai militari appunto a pochi chilometri di distanza lungo l'Ippovia. Era stata aperta e al suo interno non c'era più nulla. E sempre per quanto riguarda la cronaca a Tarcento, questa mattina un uomo ha perso la vita a seguito di un malore in pieno centro, Davide. Sì, è un malore fatale quello registrato proprio stamattina nella cittadina della Collinare. Si tratta di Vittorio Cappellani, 59 anni, residente nella località, uomo molto conosciuto in paese che si è accasciato secondo le testimonianze e ha perso i sensi improvvisamente colto da quello che pare essere stato proprio un infarto. Dopo l'allarme sul posto si sono subito attivati i passanti, grazie anche alla presenza di un defibrillatore installato nella vicina farmacia. È stata avviata la rianimazione sul posto, subito è arrivata anche l'ambulanza che ha continuato il massaggio cardiaco. Nulla da fare però per lui, non è rimasto altro che fare se non decretare il decesso sul posto. Due pattuglie dei carabinieri di Tarcento e di Cividale, una pattuglia della Guardia di Finanza. Due notizie Angela anche dal web, una tragica e invece una disperanza. Partiamo con la prima, lo ricorderete nei giorni scorsi era stata lanciata questa pagina, una pagina su Facebook dal titolo Una Speranza per Maria. Era riferita a Maria Appello, una 41enne residente a Selvis di Remanzacco che era stata colpita da una rara forma di tumore, l'appello per potersi curare la fine delle speranze durante la notte. Erano state contattate delle strutture specialistiche con Aviano, Brescia, Dubai, Milano, una clinica in Germania che avevano risposto però che non c'era più nulla da fare. Ma il marito Vincenzo e le figlie non avevano intenzione di arrendersi, volevano appunto che arrivasse un miracolo ma il tempo è stato implacabile. Nella tarda serata di domenica hanno dovuto dire addio alla loro cara. Questa è proprio la pagina a Facebook che ha lasciato l'annuncio tragico. Una notizia di Speranza invece arriva da Pordenone con il maratoneta Enrico Maggiola. Lo vedete in questa immagine, era stato colpito nel settembre scorso da un incidente stradale. Il primatista italiano delle 12 ore si sta riprendendo ed è uscito dal coma. L'incidente appunto un mese e mezzo fa, l'atleta Tristino era stato investito a Pordenone, la città dove lavora, mentre si stava allenando e attraversava la strada sulle strisce durante la pausa pranzo. L'auto che lo ha travolto si era fermata facendolo correttamente passare, la seconda lo ha preso in pieno facendogli sfondare il parabrezza e portandolo dunque in ospedale. Dunque auguri a lui sperando che il quadro clinico migliore di giorno in giorno. E purtroppo ha perso la vita a seguito di un incidente stradale, un 38enne originario di San Vito al Tagliamento. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri a Cinto Cao Maggiore. Questa e altre notizie di Cronacan, le nostre flash news curate oggi da Francesca Santoro. Incidente mortale domenica verso le 18.15 in via Venezia a Cinto Cao Maggiore. Per cause ancora da accertare, una passata uscita di strada è definita nel fossato laterale pieno di acqua. Ha perso la vita Davide Zavattin, 38enne originario di San Vito al Tagliamento. Ferita gravemente è la 25enne che guidava, Mara Demo, barista Lignano Sabbiadoro, residente a Summaga. La ragazza è stata estratta viva dall'auto, per l'uomo invece non c'è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco di Portogruaro e Motta, gli operatori sanitari del 118 di Portogruaro e la polizia locale dell'Unione dei Comuni del Portogruarese, insieme a polizia, carabinieri e soccorso stradale. Incendio in una stalla a Castello di Aviano in via Albaredo. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con l'autobotte, insieme a due squadre del distaccamento di Maniago e due del distaccamento di San Vito. Al loro arrivo l'incendio fortunatamente risultava confinato a un trattore, al di fuori di un capannone adibito a deposito di attrezzi. Le squadre hanno così provveduto a spegnere l'incendio, a scongiurare che le fiamme si propagassero all'interno del capannone e al vicino serbatoio di gasolio. Una famiglia residente in via Alessandro Volta a Bruniera si è risvegliata poco prima delle 6 del mattino, accorgendosi che la casetta esterna adibita a deposito attrezzi e la pergola contigua stavano andando a fuoco. L'incendio è interessato un'area di circa 30 metri quadri, prontamente messa in sicurezza. A intervenire sono stati i vigili del fuoco di Pordenone, deviate al ritorno da un altro intervento. Le operazioni di spegnimento sono state rapide. Sul posto è giunta anche la prima botte dalla centrale di Pordenone per sostegno idrico. Alle 4.30 del mattino i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti per un incidente stradale in località Le Forcate di Fontana Fredda, in via Gortani. A uscire di strada con l'auto un militare americano classe 99, oltre ai pompieri intervenuto in un'ambulanza supportata da un'automedica. Il ferito, che ha atteso i soccorsi all'esterno dell'auto, è stato adagiato sulla barella spinale nell'ambulanza per le prime cure. Il questore di Trieste, Giuseppe Petronzi, ha disposto la chiusura per sette giorni del McDonald di Piazza Carlo Goldoni, teatro di numerosi interventi da parte delle Forze dell'Ordine per liti tra avventori. Da maggio il locale è stato ritrovo di giovani che si sono messi in luce per comportamenti violenti, essendo già gravati da precedenti di polizia per reati contro la persona o il patrimonio o connessi all'uso di droga. La sospensione della licenza è volta a impedire a protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e a prevenire e reiterarsi di situazioni in grado di destare forte allarme sociale. Ritorniamo in studio per un altro aggiornamento che ci è appena arrivato proprio su un altro incidente. È un giornata accostellata da incidenti soprattutto nella destra a tagliamento, nel pomeriggio a Prata di Pordenone. I vigili del fuoco sono intervenuti all'altezza del civico 24 in via Pordenone con una partenza che ha messo in sicurezza lo scenario sul posto, vista la dinamica era presente anche al 118, anche l'elissoccorso come vedete in queste immagini che ha dato supporto all'intervento per l'automobilista a ferito. Si è trattato di una fuoriuscita autonoma. Per quanto riguarda invece l'allerta meteo, ormai Angela è una costante settimanale negli ultimi tempi. Da domani la protezione civile, come possiamo vedere anche dalla pagina Facebook, ha decretato una nuova allerta meteo di colore giallo su tutta la regione. Scatterà alle ore 8 del mattino e durerà fino alle ore 12 del 13 novembre con piogge importanti, significative su tutta la regione, ma ci sarà anche vento da sostenuto a forte che interesserà il settore centro-occidentale. Probabile acqua alta dal mattino sulla costa, neve in montagna, inizialmente sui 1.500-2.000 metri, poi a scendere fino agli 800.000 metri. Mercoledì mattina probabile ancora acqua alta, mentre per quanto riguarda il rischio valanghe anche in questo caso ritorna di livello marcato l'allerta segnalata dalla regione. E adesso andiamo avanti con la cronaca cittadina. Veniamo a Udine dove in via San Bernardo questa mattina c'è stata la consegna dei lavori di bonifica di un vasto edificio abbandonato, lavori di rimozione della copertura in amianto e di messa in sicurezza della struttura. Un intervento richiesto da anni dai residenti in zona. L'intervento del costo complessivo di quasi 56.000 euro che il Comune addebiterà alla ditta proprietaria dell'immobile inizierà la prossima settimana. Dovrebbe concludersi in 45 giorni. Questa mattina Monica Nardini ha intervistato l'assessore comunale alla sicurezza Alessandro Ciani. Vediamo. Era un edificio oggetto da tantissimi anni di richieste da parte dei residenti, di bonifica, di messa in sicurezza. Ci troviamo all'estrema periferia nord di Udine, nel quartiere di San Bernardo, al confine con il Comune di Reana. L'edificio purtroppo da moltissimi anni in stato di abbandono, c'è purtroppo dell'amianto, quindi ovviamente le condizioni necessitavano di un intervento, sia da parte della proprietà che in questo caso però da parte del Comune. La storia è una storia particolarmente complessa e anche lunga. Dal 2014 che l'amministrazione comunale cerca di intervenire, oggi si conclude un percorso complesso, in quanto il privato, una ditta proprietaria dell'immobile, non è intervenuta. Vista però la delicatezza della situazione, il Comune recentemente ha stanziato i fondi a bilancio per intervenire direttamente e quindi oggi consegniamo alla ditta i lavori di bonifica, di messa in sicurezza. Verranno fatti dei lavori anche per garantire la staticità dell'edificio che ha rischio di crollo. Anche visto il maltempo ci sono stati già dei recenti crolli. Esatto e quindi oggi diamo inizio a questi lavori. Visto l'inatempimento da parte del privato interviene il Comune, con una cifra peraltro anche cospicua, e poi ovviamente il Comune si rifarà nei confronti del privato, debitando al privato le spese. Quello che devo dire è ringraziare gli uffici del Comune, l'Ufficio Ambiente, la Polizia Ambientale e anche tutti gli enti che hanno lavorato in questa procedura, l'azienda sanitaria, i vigili del fuoco. C'è stata un'ottima collaborazione da parte di diversi enti. Questa ovviamente è una cosa che spesso crea problemi, qui invece si è riusciti a collaborare per il bene della comunità, per il bene di questo quartiere. Quindi non ci sono occupazioni abusive in questo stabile come è avvenuto in Viale Europa Unita? No, recentemente non sono state rilevate il problema. Ovviamente è un problema che riguarda la salute dei residenti del quartiere, perché ovviamente l'amianto crea problemi non da poco. Un edificio anche molto grande, vediamo, che epoca rissa? Si tratta di un edificio che nell'Ottocento era un battiferro. Nel corso di questi decenni, di tanti decenni, i privati hanno cercato di rilevarlo, di riqualificarlo. Non c'è stata la possibilità. Questo ovviamente però non giustifica il fatto che un privato possa lasciare il stato di abbandono a un edificio. E a proposito di lavori e interventi di risistemazione, il Comune di Udine sta mettendo a posto anche la sua casa, proprio l'edificio del municipio, Davide. Sì, magari chi transiterà in queste giornate a Palazzo d'Aronco si renderà conto di persona delle impalcature dei teli che sono stati allestiti, come vedete in queste immagini. Si tratta della nuova tranche dopo quella già eseguita a luglio, del lavoro di sistemazione dei soffitti dell'edificio costruito da Raimondo d'Aronco nel 1930. Attualmente si sta procedendo alla stuccatura delle crepe, la ricostruzione di alcuni pezzi venuti a mancare nel corso degli anni per poi proseguire con la pulitura, il consolidamento della vecchia pittura e la stesura di un nuovo strato di colore nel rispetto del disegno originale. E le nuove disposizioni riguardanti la finanza locale sono state portate all'attenzione del Consiglio delle Autonomie Locali che si è riunito oggi a Udine. Sono in arrivo nuovi finanziamenti per i comuni, per elargire servizi ai cittadini e in vista anche un crescente ricorso alle nuove tecnologie. Vediamo. Via libera all'unanimità da parte del CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali, alla legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022 e alle disposizioni riguardanti la finanza locale. Di fatto sono previsti più finanziamenti ai comuni per l'erogazione di servizi, oltre a una crescente attenzione per la montagna, con iniziative volte allo sviluppo dei territori montani. Tanto tanti soldi in più ai comuni, la risoluzione del tema dell'extragettito, quindi anche in questo caso ulteriore risorse ai comuni per poter erogare servizi sempre più efficienti ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Non a caso la parte relativa alle autonomie locali, quindi gli articoli della stabilità che riguardano direttamente i comuni, hanno ricevuto un voto unanime favorevole da parte di tutti i sindaci del territorio. E questa è sicuramente una grande soddisfazione che riconosce all'amministrazione regionale quanti sforzi sono stati fatti per dare delle risorse concrete. Una manovra che continua nel solco già tracciato, una manovra che quindi porta avanti a regime le manovre simbolo della Giunta e dell'amministrazione regionale. Penso all'attenzione particolare per i nostri enti locali, in particolare per quanto attiene i comuni montani e il loro riequilibrio finanziario e anche alle iniziative proprio specifiche per lo sviluppo dei territori montani. E' stato portato all'attenzione del CAL anche il programma triennale per lo sviluppo delle infrastrutture telematiche 2020-2022, che prevede che la tecnologia consenta di fornire migliori servizi ai cittadini. Apprenderemo la possibilità che la tecnologia ci fornisca migliori servizi per i cittadini e in questo approfitteremo delle nuove intelligenze artificiali che in qualche modo danno ulteriori servizi con costi minori rispetto a quello che normalmente eravamo abituati a fare con le risorse umane. e potranno permetterci quindi di poter impiegare meglio le persone su servizi ulteriori nei confronti dei cittadini. E ritornando sulla rete, su Facebook, David, abbiamo trovato una foto abbastanza curiosa che vi vogliamo mostrare. Sì, curiosa ed emblematica su un problema denunciato più volte tanto da portare in piazza allevatori e agricoltori la scorsa settimana a Roma. Lo vedete in questa immagine, è un cinghiale che sta dando contro a una vettura dei carabinieri è stata scattata a gradisca di sonzo nei giorni scorsi ed è sintomatico insomma sul fatto che questi ungulati si stanno spingendo sempre di più nel centro dei paesi, non solo sul confine, non solo danneggiando i campi e le coltivazioni degli agricoltori ma anche appunto creando pericolo per chi transita in auto e sono stati tantissimi gli incidenti, alcuni dei quali anche mortali registrati proprio nell'ultimo anno a causa dei cinghiali. Dicevamo della manifestazione indetta proprio da Coldiretti nella scorsa settimana sul fronte ai cinghiali Coldiretti che oggi torna all'attacco della RAI. Perché? Perché andiamo a recuperare il comunicato ufficiale dell'Associazione dei Coltivatori che va contro Linea Verde la nota trasmissione che si occupa dell'agricoltura perché? Perché ha fatto uno spot per il grano canadese che offende, secondo Coldiretti, ben 300.000 aziende agricole italiane un grano canadese trattato con erbicida glifosfato per raccolta secondo modalità che sul territorio nazionale sono addirittura esplicitamente vietate e quindi l'associazione insomma tira le orecchie all'azienda di Stato. E noi adesso diamo spazio alle notizie che ci arrivano dall'Italia e dal mondo con il consueto servizio curato dall'Ansa. Poi un po' di pubblicità e quindi di nuovo assieme con lo sport. Un patto segreto tra i governi di Valletta e Tripoli per evitare che Malta, il paese più piccolo dell'Unione Europea venga sommerso dai migranti affidando alla controversia guardia costiera libica il compito di intercettare, su indicazioni delle forze armate maltesi i barconi diretti verso le acque di competenza maltesi. A rivelare l'accordo è stato il Sunday Times of Malta uno scoop che conferma quello che le ONG, Alarm Phone in particolare denunciano da tempo. Fonti di governo, interpellate dal giornale hanno tra l'altro giustificato l'intesa sostenendo che sia stata fatta sul modello di quella che hanno stretto gli italiani con la Libia. Israele scende in campo a difesa di Liliana Segre sia il presidente Royven Rivlin che lo Yad Vashem il Museo della Memoria di Gerusalemme hanno duramente denunciato le minacce antisemite che hanno portato alla necessità di dotare la senatrice a vita italiana di una scorta a sua difesa. In una lettera inviata a Segre, Rivlin si è detto inorridito della notizia e l'ha invitata in Israele. Sarebbe un grande onore mio personale per lo Stato di Israele accoglierti a Gerusalemme e in Israele ha scritto il Capo dello Stato. Caos e tensione alle stelle in Bolivia dove agli scontri della scorsa notte è seguita una giornata dir poco ricca di colpi di scena e continui aggiornamenti. Il presidente dimissionario del paese, Evo Morales ha invitato gli oppositori Carlos Mesa e Luis Fernando Camacho ad assumersi la responsabilità di pacificare il paese e garantire la stabilità politica e la convivenza pacifica del popolo. In una serie di tweet, Morales ha poi stigmatizzato e denunciato violenze e assalti a casa sua e a quella di sua sorella sottolineando come si sia trattato di un vero e proprio colpo di Stato. Intanto Maria Eugencia Ciocche, ex presidente del Tribunale Supremo elettorale della Bolivia, e Antonio Costas, ex vicepresidente e sono stati arrestati con l'accusa di brogli nelle elezioni generali del 20 ottobre. Accade appena 13 o 14 volte in un intero secolo che Mercurio scorra come un minuscolo neo contro il disco gigantesco del Sole provocando delle impercettibili eclissi e la prossima volta succederà solo il 13 novembre del 2032. L'appuntamento di queste ore è quindi imperdibile e in tutto il mondo astronomi e astrofili si sono organizzati per osservare la danza del pianeta contro il Sole. Impossibile farlo però ad occhio nudo, c'è bisogno infatti di un piccolo telescopio o almeno di un binocolo, da utilizzare con tutte le cautele necessarie per evitare danni agli occhi. L'ultimo transito di Mercurio contro il Sole risale a tre anni fa precisamente al 9 maggio del 2016 e quello ancora precedente all'8 novembre del 2006. Osservarlo non è soltanto una curiosità ma per gli astronomi è un'occasione per studiare gli strati più esterni dell'atmosfera del Sole, ossia fotosfera e cromosfera. Per l'occasione sono stati organizzati eventi in tutta Italia da Torino a Bologna, da Roma a Catania. E siamo pronti per la pagina sportiva nel lunedì post SPAL a tenere banco è sempre il futuro della panchina bianconera in casa udinese proprietà e dirigenza continuano a riflettere tenendo aperti tutti gli scenari intanto il Friuli si gode super Juan Musso. Vediamo. È un lunedì di riflessione per l'udinese non per quanto si è visto per giunta anche di positivo sul campo ieri contro la SPAL nonostante lo 0-0 finale ma soprattutto per quanto riguarda la questione. Allenatore, si prende ancora tutto il tempo necessario e dunque le valutazioni proseguono anche nella giornata odierna per il club bianconero. L'orientamento di Luca Gotti è chiaro ed è stato riconfermato anche nel post-match della gara contro i ferraresi. Si sente a più agio e calato nel ruolo di secondo allenatore di vice insomma e dunque la società continua a scandagliare tutte le ipotesi senza precludersi alcuna possibilità. Il tempo, vista anche la sosta, non manca. Intanto la squadra riposa nella giornata di oggi e fa altrettanto per domani. Dunque la ripresa di allenamenti è fissata per mercoledì alle ore 15 ma si continua naturalmente ad attendere quelle che saranno le decisioni in merito alla panchina. Nel frattempo il match contro la SPAL ha lasciato l'amaro in bocca da una parte perché la squadra nel secondo tempo ha chiuso gli spallini nella propria area di rigore ma non è riuscito a trovare la via della rete complice. Anche poca freddezza sottoporta ma soprattutto tanta sfortuna come nel caso del diagonale di Mandragora è uscito fuori di poco nei numerosi salvataggi dei difensori centrali degli avversari. Detto questo, Super One Musso dall'altra parte ha salvato il risultato parando un super rigore di fatti a tempo scaduto a Petagna e diventando ancora di più l'eroe e l'idolo di una Dacia Arena che invocava il suo nome dentro e fuori dallo stadio al termine del match. Dunque tra due settimane a Genova contro la Sampdoria bisognerà ripartire con rinnovato entusiasmo e forti anche di una prestazione comunque positiva messa in campo contro la Spal. Parliamo del Pordenone adesso con il pareggio maturato sul campo dell'Intella il Pordenone giunge alla pausa nazionale con un sorprendente quarto posto in classifica. La squadra di Tesser ha recuperato terreno migliorando il rendimento in trasferta anche grazie ai gol di Luca Strezzo. Sentiamo Lorenzo Pausa. La pausa per le nazionali regala al Pordenone altre due settimane ad alta quota. Il pareggio esterno maturato sabato contro l'Intella ha permesso ai Ramari di avviare una mini striscia di risultati positivi anche lontano dalla Dacia Arena fattore che si è rivelato determinante per scalare posizioni di classifica in una Serie B così equilibrata arrivando fino al quarto posto a sole sei lunghezze dalla capolista Benevento assolutamente niente male per una neopromossa. La squadra di Tesser continua a fare della prestazione di gruppo la sua arma migliore e ulteriore dimostrazione la si è avuta proprio sul sintetico di Chiavari dove i Ramari hanno difeso il risultato in inferiorità numerica come era già avvenuto a fine settembre al Bente Godi in quel caso addirittura in 9 contro 11. Nel collettivo però i gol di Luca Strizzolo stanno finalmente iniziando a fare la differenza dopo un periodo in cui gli attaccanti di ruolo avevano faticato ad andare a bersaglio. Il 27enne Friulano è ora il miglior marcatore nero-verde con quattro centri in campionato due dei quali ottenuti nelle ultime tre partite pesantissimo quello di Venezia che ha portato in extremis al primo successo fuori casa spettacolare quello del momentaneo 1-0 sull'Entella Reti che danno fiducia e autostima aspettando il pieno recupero di Pobega già in campo per 30 minuti nella trasferta Ligure e il rientro di Luca Schiaretti il tempo per lavorare e recuperare energia c'è in vista di un ciclo di sette turni che alla ripresa del campionato arriveranno in serie prima di Natale primo di tutti sabato 23 novembre in casa il Perugia di Massimo Oddo che condivide con Pordenone e Pescara la quarta piazza a 19 punti E il calcio ludinese sarà anche il protagonista della nostra prima serata in questo lunedì David? Sì Angela una prima serata da non perdere all'ora 21 scatta il Tonight con Giorgia Bortolossi Maurizio Ferrari i loro ospiti il direttore Michele Criscitello collegato da Milano alle 22 in seconda serata invece spazio all'economia con gli speciali del TG a cura di Francesco Pezzella si parlerà di manovra economica a zigzag con prestigiosi ospiti il vice direttore del Sole 24 Ore Plateroti la deputata Dem Deborah Serracchiani in studio Claudio Siciliotti profittiamo Angela anche per salutare una nostra nuova giovane telespettatrice Anna a casa con mamma Valentina insomma saluta allora la nostra collega sicuramente un saluto anche alla piccola Anna noi ci fermiamo qui ci rivediamo questa sera alle 22.30 circa dopo il nostro speciale del TG David grazie e buona serata anche a te a te Angela buona serata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.